E che fai te ne privi di un nuovo short royale, ragazzi, no che non ce ne priviamo, questi video di Clash Royale Short, una via di mezzo della nuova funzione di Youtube, degli shorts, questi sono gli shorts Royale Li conoscevate, gli shorts royale? Praticamente sono gli stessi video che avete visto fino adesso su questo canale, semplicemente adesso li chiamo gli shorts royale Perché secondo me fa molto più figo e rivoluzionario Ragazzi, sarà pure uno shorts royale, ma sempre il counter contro andiamo a beccare, cioè non è che c'è tutta sta grande novità Ragazzi il deck lo conosciamo, non è che c'è niente di nuovo o c'è qualcosa di pazzesco o di trallallero o trallallà Secondo me questa ci può stare, secondo me ci sta tutto in realtà, proprio tutto l'Ambaradam ci sta un botto Benissimo, ragazzi dai 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 che siamo un po' fortunatini, siamo un po' fortunatini Sì sì, un po' di fortuna anche a noi ogni tanto, ti prego sì, ti prego fammi la torre, ti prego Questa è la fortuna degli shorts royale Che nome accattivante, che nome accattivante per una serie Gli shorts royale Che ci piacciono E questo era completamente counter E se il tipo non gioca più, siamo ancora più contenti Ah, allora è proprio super shorts royale questo Che goduria, posso dirlo? Lo possiamo dire? E io direi Signori, grazie mille per aver visto questo video Ve voglio bene Alla prossima appuntamento al vostro 1789 Ah, che goduria Ah, 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 ah